I risk managers sono chiamati ad affrontare una serie di difficoltà, di complessità legate all'evoluzione dei rischi. Ci sono però anche molte opportunità. Da una parte la complessità del rischio impone un'evoluzione delle competenze, dall'altra la funzione di risk management all'interno delle aziende sta acquisendo un'importanza sempre più centrale per servire al meglio i clienti, le aziende e per gestire il business dell'impresa. Di questo parliamo con Fabrizio Sarrocco, Finance e Risk Lead Italy, Eastern Europe and Greece di Ascentor. Buongiorno dottor Sarrocco. Introduciamo un po' lo scenario in cui i risk manager vivono e agiscono. Che tipo di complessità devono gestire? Devo dire che gli ultimi anni sono anni, da un certo punto di vista, molto importanti per la funzione di risk management che si trova a gestire vettori di cambiamento particolarmente rilevanti. Ne possiamo individuare diversi, però tra quelli più rilevanti dal nostro punto di vista vediamo da un lato l'esigenza di misurarsi con una innovazione tecnologica sempre più forte su due direttrici fondamentali, la componente degli analytics e della disponibilità di un patrimonio informativo sempre più profondo e l'altra è il grande tema della digitalizzazione. Secondo elemento che vediamo, sempre più forte, è l'esigenza o la richiesta da parte delle strutture che interagiscono all'interno delle aziende con il risk management di avere una vicinanza di questa funzione rispetto alle tematiche di business e quindi come noi lo definiamo un principio di cambiamento un po' della figura del risk manager da una figura tecnica di misurazione e mitigazione di rischi ad un trusted advisor del business e quindi avere anche capacità di guidare o supportare il business nelle fasi originative di prodotti o business paralleli rispetto al core business. In questo cambiamento ci sono degli ambiti di rischio in cui le aziende risultano più sensibili? E questa è una prima domanda. La seconda è ci sono aziende più a rischio rispetto ad altre? Allora, generalmente direi che i rischi evolvono e cambiano in funzione ovviamente dell'ecosistema in cui le aziende lavorano. Negli ultimi anni sicuramente, tornando un po' a quello che dicevamo, c'è sicuramente l'esigenza di mettere sotto controllo tutto ciò che è relativo ai rischi legati alla tecnologia e quindi un fattore di rischio particolarmente rilevante è proprio quello che attiene al cosiddetto cyber o IT risk management che tende a misurare e a guidare la rischiosità che le aziende si portano in casa dovendo gestire tecnologie più o meno innovative. L'altro elemento di grande novità proprio negli ultimi due anni è il rischio di transizione, il rischio di sostenibilità che negli ultimi tempi impegna particolarmente il risk management ancora una volta nella logica di essere un elemento fondante di una traiettoria che in questo caso è di transizione energetica di tutta l'azienda con delle componenti di risk management dentro. Per quanto riguarda le aziende è chiaro che dipende molto dal modello operativo di funzionamento e dai prodotti, chiaramente le aziende più esposte all'innovazione tecnologica quindi quelle più tech orienti devono dotarsi di strumentazione per gestire questi rischi. Ecco, ma nell'era digitale fino a che punto la tecnologia può aiutare a gestire i rischi? Quali strumenti sono necessari per i risk manager nella loro attività quotidiana? Io direi due cose fondamentali. Una, una disponibilità di dati talmente granulari tali da riuscire o da aiutare i risk manager a accelerare la capacità di analisi dei rischi che l'azienda corre e quindi la disponibilità di un dato molto più analitico, anche se vogliamo più composito, quindi dati interni e dati esterni all'azienda, è uno degli strumenti fondamentali per aiutare i risk manager. Secondo elemento è la digitalizzazione. Ancora una volta la fruizione digitale di dati così profondi accelera il momento in cui quel dato diventa fruibile per fare reazioni a quel rischio. Se io porto quel dato in digitale, per esempio su strumenti multi device, riesco ad accelerare la mia capacità reattiva. La funzione di risk management, come accennavo in apertura, sta diventando sempre più centrale all'interno delle aziende. Lei l'ha definita in un passaggio della sua presentazione come centro di profitto. Che cosa significa legare il risk management ad un concetto di profitto, in particolare alla luce anche dei rischi che stanno cambiando in relazione ai criteri ISG, per esempio? Assolutamente. Questa è una linea di tendenza che dal nostro punto di vista è molto interessante. Il risk management per noi può svolgere un ruolo, oltre che come dicevamo prima, di supporto al business nelle fasi di origination dei prodotti, ma anche un ruolo di advisor per la propria clientela concependo dei servizi basati sulle proprie capabilities che possono aiutare, per esempio, il settore delle piccole e medie imprese a meglio gestire i propri rischi, per esempio, l'abbiamo detto, i rischi IT, il rischio possibile dissesto finanziario, crisi di liquidità, fino ad arrivare ovviamente a tematiche invece più di copertura assicurativa sui rischi catastrofali. Che cosa vuol dire? Il risk management può mettere, si dice da service, ma insomma al servizio delle imprese, le proprie competenze, le proprie capability e strutturare dei prodotti attraverso i quali, per esempio le piccole e medie imprese, possano fare migliore detection dei propri rischi utilizzando, in gergo si dice risk library, del risk management a servizio. Quindi il risk management alla fine può essere uno strumento di supporto e di vendita di questo tipo di capabilities e quindi da questo punto di vista diventare un nuovo profit pool dell'azienda. Vedremo come evolverà allora questa tendenza, io la ringrazio e le auguro buon lavoro. Grazie a voi, a presto, arrivederci.